Adesso allo stand, più che allo stand, in uno stanzino che ci è salutato da LG per provare in anteprima e in approfondimento questi LG G5. Ne abbiamo qui due, un rose gold che è la nuova colorazione introdotta da LG e dall'altro lato abbiamo l'oro, quindi la versione gold. Riprendendo un po' magari le specifiche estetiche abbiamo uno schermo da 5.5 pollici e abbiamo come vedete una fresatura metallizzata che è davvero molto elegante. Dietro abbiamo la doppia fotocamera con un doppio flash led e autofocus laser e il sensore biometrico delle improte digitali che fa anche da tasto. Quindi, innanzitutto, la prima differenza che vediamo dal G4 è che LG ha deciso di togliere i tasti volume ponendoli sul lato sinistro e sul lato destro non abbiamo nulla, abbiamo solo il carrellino della sigla. Questo tastino, come abbiamo imparato a vedere, è il tastino che va a sganciare la parte superiore, intanto qui vediamo la USB Type-C con il microfono e lo speaker, va a sganciare la parte superiore, questo tastino e con essa viene sganciata l'intera batteria per inserire i moduli. Adesso non lo faccio perché altrimenti mi si spegnerebbe il dispositivo, ma vi faccio vedere che l'ho montato qui, questo è il modulo per la fotocamera. Ho staccato il tutto e l'ho montato, gli ho montato il modulo della fotocamera. Andiamo magari a provarlo. Quindi il dispositivo diventa molto versatile con l'utilizzo di moduli differenti, grazie ai moduli intercambiabili. Andiamo magari a fare uno scatto veloce. Volevo far vedere anche magari una messa a fuoco leggermente più complicata. Vediamo in quanto tempo mette a fuoco. Sì, mette a fuoco in un modo abbastanza rapido. Qui abbiamo il modulo che ho montato su questo G5, scusate, ce l'abbiamo qui e qui va agganciata la batteria con degli agganci fisici e va inserito sotto il retro del dispositivo. Adesso magari ve lo spengo così, ve lo faccio vedere. Allora, si preme questo tastino ed è una presa abbastanza solida e va a staccarsi il modulo. Con il modulo viene fuori anche la batteria che noi con forza stacchiamo e come vedete possiamo agganciarci sotto il nostro. In questo caso è la parte sottostante semplice, quindi senza moduli, oppure possiamo attaccargli il modulo. Attualmente abbiamo disponibile il modulo per la fotocamera che vediamo qui e il modulo audio che adesso non abbiamo sotto mano, ma che abbiamo visto nella nostra anteprima che vi invito a vedere alla conferenza di presentazione. Poi andiamo a reinserire la nostra batteria all'interno e con un clic andiamo a portare tutto come era prima. Navigando un po' con questo G5 possiamo notare che l'interfaccia LG non è rimasta come quella del G4, ma è cambiata molto. Speriamo magari di averlo in prova presto per capire bene le funzionalità nuove introdotte. Sicuramente una delle più importanti, e adesso vi faccio vedere, è il display Always On. Come vedete è un display che va, come magari ricordiamo nei Motorola, anche di qualche anno fa, essere introdotto questo display Always On, come abbiamo visto anche su Galaxy S7, e che ci fa vedere non solo l'orario sempre attivo, nonostante non vada a inficiare molto sulla batteria, ci fa vedere anche le notifiche quando appaiono. E nulla, siamo qui con questi due LG G5, proprio per farvi vedere anche magari la gamma di colori, e farvelo vedere un po' più esteticamente, visto che c'è stata una fretta generale durante la presentazione. Quindi magari vediamo un secondo quanto ci mette ad accendersi, dopo un riavvio. E nel frattempo volevo farvi vedere altri accessori. Qui abbiamo la camera a 360 gradi, con questo simpatico coperchio, che va ad agganciarsi in questo modo. E abbiamo questa fotocamera che fa video e foto in 360 gradi, con questo tastino e questo tasto di accensione e spegnimento. Non ve la facciamo provare perché non sarebbe... Non possiamo caricare video su YouTube a 360, quindi sarebbe inutile. Però vi diciamo che funziona abbastanza bene, è una novità introdotta anche da Samsung e da altri produttori. Poi abbiamo qui il VR, che non ha una qualità eccelsa come quella di altri dispositivi, di altre marche. Però è un VR abbastanza discreto e devo dire che quando l'ho provato queste due stecche mi hanno fatto un dolore assurdo. Quindi magari c'è qualcosa da sistemare in una versione successiva, perché davvero in questo modo non è proprio fatta benissimo. Con questa parte in quasi cartone, quasi cartone con... Non lo so... Loro dicono un effetto scamosciato, ma secondo me sembra davvero molto cartone. Qui abbiamo invece la parte che andrà sopra il naso, ma come vedete non è costruito molto bene. Su questo bisogna dirlo e magari poteva lavorarci un po' di più. E con queste rotelle andiamo a regolarne la messa a fuoco. Ovviamente non ha bisogno di uno smartphone e questo è magari un plus in più che può avere questo VR di LG, che si connette allo smartphone tramite la USB Type-C e ci trasmette i video, non solo quelli in 360, ma anche quelli normali in questo modo. Appunto ve l'ho detto che l'USB e Type-C in questo caso, scusatemi ma ho toccato che sbaglio il tastino e si è sganciato tutto. Ma ovviamente è una cosa da verificare se è davvero molto stabile oppure se in tasca per sbaglio toccando si sganci la parte sottostante. Andremo poi a verificarlo quando ci arriverà in prova e per adesso è tutto da questo stand LG, per questa prova leggermente più approfondita sull'estetica e sulle principali funzionalità modulari di LG G5. Continuate a seguirci perché ci saranno altre prove e altre video anteprime da questo nuovo World Conference 2016 che si è fatto davvero molto molto interessante. Ciao!